Gli accordi locali possono restare anche se a livello nazionale c'è stata questa frattura? Io me lo auguro per senso di responsabilità, qualcun altro potrebbe in qualche modo sostenere che, come si dice in un detto popolare, chi non è buono per il re non è buono neppure per la regina e quindi se tu ritieni che noi siamo un piccio, un inciampo per il governo del paese dovremmo esserlo automaticamente per il governo delle amministrazioni locali. Però la sinistra è stata sempre caratterizzata da senso di responsabilità e di lealtà rispetto agli interessi del paese e soprattutto della rappresentanza sociale che esprime. E quindi io mi auguro e sono certo che laddove sarà possibile ed è possibile mantenere e stringere alleanze di questo tipo, questo sarà fatto. E mi auguro che questa lezione in cui appunto il centrodestra ha consolidato il suo consenso perché spinto su una campagna elettorale tutta giocata sul suo terreno da Veltroni sia da lezione e faccia ritornare un po' di senno che possa ricostruire un punto di vista alternativo.